Si è fatto male. Grande fratello, attimi di paura per il concorrente. È successo mentre l'uomo era in cucina con alcuni colleghi della casa quando si è accorto che qualcosa non andava. Il video, diventato virale in pochi minuti ritrae Clayton Norcross che si mette le mani in bocca e scopre che c'è qualcosa che non va al suo interno. Infatti poco dopo l'attore scopre che si è rotto un dente e tutto è successo in diretta sulle telecamere del reality show concotto da Alfonso Signorini. Come dicevamo è successo tutto mentre Clayton Norcross stava parlando in cucina con Enzo Paolo Turchi, Iago Garcia e Elena Prestes. Mentre masticava e parlava, l'uomo si è infilato due dita nella bocca togliendosi il dente rotto. Ti si è rotto un dente? Si è subito accorto Turchi. Devi andare da un medico, ha commentato Garcia. Che poi non è neanche la prima volta che capita una cosa del genere in diretta. Qualcuno può forse dimenticare quando Fabrizio Corona perse un dente da Silvia Tofanina Verissimo? Oppure quando la povera giornalista ucraina durante il periodo del coronavirus ne perse uno? Anche Alan Friedman, solo qualche giorno fa, ne ha perso uno a Ballando con le stelle. Proprio lui a riguardo ha raccontato a Mara Venier, si è tutto vero. Ho perso un dente prima dell'esibizione di ieri sera. Ero nella sala delle stelle dietro le quinte. Sono andato nell'angolo dove di solito ci sono i doli. E ancora, così ho preso un grosso pezzo di cioccolato e ho dato un bel morso grande e tac il dente è subito caduto. Ero un po' spiazzato per quello che è successo. Sono andato in pista disorientato, e nella presa sono andato in confusione. Così è, ho fatto scivolare già da lini. Se il dente manca ancora, guardate qui ecco. Il dente ce l'ho qui in mano. Un po' come a testimoniare che sono cose che possono capitare a chiunque e quindi anche dentro la casa del grande fratello. Clayton Norcross, noto per il ruolo di Thorne Forester nella storica sopopera americana Beautiful, è uno dei concorrenti più sorprendenti dell'edizione attuale del grande fratello. Attore e volto amato dal pubblico italiano, Norcross porta con sé un fascino internazionale e una carriera longeva, che spaziano dagli Stati Uniti all'Italia, dove ha recitato in numerose fiction e partecipato a programmi di intrattenimento. Il video finisce qui, ma se sei interessato alle news puoi iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti i nuovi video.